Mi piace stare al parco durante l'autunno. Il libro è sul tavolo della cucina. Lui ha viaggiato in treno da Milano a Roma. La penna è sulla scrivania. La scatola è sotto al mio letto. Lei è andata al cinema con i suoi amici. L'ufficio postale è nella via principale. La mia borsa è a terra accanto alla sedia. Sono arrivato all'aeroporto in ritardo. Il gatto è sopra il tavolo della cucina. Il negozio è all'angolo della strada. L'aula è al secondo piano dell'edificio. La pizza è nel forno da dieci minuti. Il cane è uscito dal giardino per il cancello. Siamo andati al parco per fare una passeggiata. A fine giornata mi piace rilassarmi con un libro. Il gatto è salito sul tetto scappando dal cane. Non mi piace viaggiare in treno. Meglio l'aereo. La riunione è in sala riunioni al terzo piano. Questo film parla della vita di un viaggiatore. Durante l'estate ci piace andare in spiaggia. Tra i miei colleghi preferisco quelli più gentili. Marco ha messo a tavola dei fiori freschi. Tra tutti i partecipanti solo uno ha finito. Quel bambino è sempre in giardino a giocare. Il negozio si trova nella piazza principale. Alla fine del libro ci sono i punti chiave. Non trovo le chiavi. Le ho lasciate in casa. Io voglio. Volevo. Ho voluto. Io vengo. Venivo. Sono venuto. Io esco. Uscivo. Sono uscito. Io tengo. Tenevo. Ho tenuto. Io sto. Stavo. Sono stato. Io so. Sapevo. Ho saputo. Io posso. Potevo. Potevo. Ho potuto. Io faccio. Facevo. Ho fatto. Io sono. Ero. Sono stato. Io ho dovuto. Dovevo. Ho dovuto. Io dico. Dicevo. Ho detto. Io do. Io davo. Io ho dato, io bevo, bevevo, ho bevuto, io ho, avevo, ho avuto, io vado, andavo, sono andato, io leggo, leggevo, ho letto, io chiudo, chiudevo, ho chiuso, io vedo, vedevo, ho visto. Quanto costa questa camicia? Quando sono a casa ti chiamo. Non so quando andiamo a cena. Per quanto tempo sei stato via? Quando eri un bambino piangevi molto. Quando vuoi beviamo un caffè. Quando è il tuo compleanno? Quando leggo mi siedo sul divano. Quanto tempo ci vuole per uscire? Da quando sei tornato sei felice. Per quanto starai in vacanza? A quanto pare ci sarà la pioggia. ha detto che non sa quando viene. Quanto durano le vacanze? Quanto durano le vacanze? Quando finisco di lavorare esco. Ho visto quanto c'è da mangiare. Mangio quando il sole tramonta. Quando guido ascolto la musica. Da quanto tempo sei uscito? Il mio cane è buono quanto il tuo. più. L'auto è più veloce della moto. Siamo più competenti di loro. Il tuo cane è più calmo del mio. Io sono più intelligente di lei. Noi siamo più ricchi di loro. Claudia è più stanca di tutti. Meno. Luca non è meno sveglio di noi. Giulia ha meno fratelli che sorelle. Lui ha meno energia di sua figlia. Claudia è meno bella che geniale. Tu leggi meno libri che giornali. ci sono meno coltelli che cucchiai. come? Luca è ordinato come Elisa. Io sono alto come i miei amici. tu sei giovane come tutti noi. Lei è alta come la sua collega. Lui è elegante come suo zio. Lisa è intelligente come noi. Io abbia. Tu abbia. Lui, lei abbia. Lui, lei abbia. Noi abbiamo. Voi abbiate. Loro abbiano. Io avessi. Tu avessi. Lui, lei avesse. Noi avessimo. Voi aveste. Loro avessero. Io sia. Tu sia. Lui, lei sia. Noi siamo. Voi siate. Loro siano. Io fossi. Tu fossi. Lui, lei fosse. Noi fossimo. Voi foste. Loro fossero. Bisogna che io prenda un appuntamento. Mi piacerebbe che tu venissi da me stasera. Desidero che lui venga domani alle dieci. Speravamo che voi arrivate presto. Speravamo che voi arrivate presto. Pensavano che noi fossimo già arrivati. facciamolo affinché lei sia contenta. Se lui avesse una buona scusa, lo perdonerei. per bravi che siano, sbagliano molto. Se Claudia dovesse chiamarti, dille tutto. Non so se io possa finire il mio lavoro. Un televisore a colori. Un viso allegro. Un amica francese. Uno studente belga. Una città greca. Un uomo ottimista. Un caffè lungo. Una cantante brava. Un insegnante tedesca. Un attore comico. Un collega giornalista. Una cartolina colorata. Un pianista inglese. Una bambina torinese. Una bambina torinese. Una radio nuova. Un'università straniera. Un armadio di legno. Una moto giapponese. Una donna gentile. Un edificio vecchio. Un bicchiere vuoto. Un bicchiere vuoto. Un bicchiere vuoto. Non ho soldi. Non ho mangiato nessuna patata. Un bicchiere vuoto. Non ho mangiato inizialmente. Ecco Safeia. Non ha un bel bi pensione. Ho bisogno di dormire, ho fame, qui c'è molto cibo, hai speso troppo, hai speso un euro, di troppo, vogliamo, silenzio, volere, io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono, venire, io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono, stare, io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno, scrivere, io scrivo, tu scrivi, lui, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono, scendere, io scendo, tu scendi, lui, lei scende, noi scendiamo, voi scendete, loro scendono, io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono. Marco dice che rinvierà la partenza di due giorni. Marco aveva detto che avrebbe rinviato la partenza di due giorni. La signora Marini dice che il figlio si laureerà entro giugno. La signora Marini aveva detto che il figlio si sarebbe laureato entro giugno. Il direttore stabilisce che le vendite inizieranno prima dell'estate. Il direttore aveva stabilito che le vendite sarebbero iniziate prima dell'estate. I nostri amici sono d'accordo, festeggeremo la vittoria in pizzeria. I nostri amici erano d'accordo, avrebbero festeggiato la vittoria in pizzeria. La mamma dice che comprerà tutto il necessario. La mamma diceva che avrebbe comprato tutto il necessario. La polizia è convinta che l'omicida tornerà sul luogo del delitto. La polizia era convinta che l'omicida sarebbe tornato sul luogo del delitto. Marco e i suoi amici dicono che in estate andranno in campeggio. Marco e i suoi amici dicevano che in estate sarebbero andati in campeggio. Il professore assicura che farà tutte le pratiche necessarie. Il professore assicurava che avrebbe fatto tutte le pratiche necessarie. Grazie a tutti.